Ragazzi, voi che giocate giochi da tavolo ovviamente o soprattutto giochi di carte, vi consiglio di comprare le sleeves, le bustine di protezione della Mage Company. Sono di tutte le dimensioni, vedete qui ce l'hanno mandato un campione a casa per farvelo vedere, costano veramente poco, sono veramente prezzi molto competitivi e ogni bustina ce n'è 50. Vedete, nelle varie dimensioni per carte molto piccole si va ad esempio per gli equipaggiamenti di Zombicide che mi viene in mente o carte un po' più grandi per mettere insomma dentro carte come un Deep Madness o anche un Nemesis. E vedete ci sono varie dimensioni, sono molto resistenti in tutte le dimensioni e trovate il link al sito della Mage Company in descrizione per ordinarle. Andateci a dare un'occhiata ragazzi, ci hanno dei prezzi veramente veramente competitivi, infatti anch'io ho fatto un ordine recentemente per farmi arrivare un po' di roba a casa. Dateci un occhio. Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Finalmente, anche perché me ne ero quasi dimenticato tanto è il tempo che è passato, è arrivato a casa Everdale. La versione Kickstarter Collector Edition, come potete vedere infatti dopo vi farò vedere che c'è una scatola particolare nel gioco di base. E questa è la confezione del gioco base, come Collector ci sono già aggiunte, carte aggiuntive, gettoni e quant'altro. E poi qui c'è la prima espansione per Brook però che vi farò vedere in un video a parte. Oggi parliamo di questa. Intanto ringrazio veramente di cuore la Starling Games d'averci fornito questa copia, più l'espansione tra l'altro in Collector per la recensione. Comunque ragazzi non vi preoccupate perché se andate sul sito dell'Asmo d'Italia, lo trovate, ovviamente in versione retail, solo il gioco base, le espansioni poi verranno più avanti. Lo trovate portato e tradotto e localizzato in italiano da Asmode Italia. Quindi andate sul loro sito perché se non erro, non vorrei dire una cavolata, non confermato, ma tra ottobre e novembre il gioco base, la retail, quello che io ho in versione inglese, uscirà anche in lingua italiana. Quindi andate a vedere sul sito di loro, io per sicurezza ve lo lascio in descrizione. E comunque Everdale è uno dei kickstarter più votati di tutto, è un gioco semplicissimo, veramente semplice, io penso che in mezz'ora una partita la fai, ma forse guarda, stirate, è arrivata a mezz'ora perché devi spiegare un po' le regole. Ed è veramente interessante, intanto i disegni, i disegni sono tra i più belli che ho mai visto e secondo me ricorda anche un po' Root. E Root a sua volta ricorda un po' questo, perché in Root è più gioco di battaglia, nel boschetto, vi ricordate con la Marchesa dei Gatti e tutto quanto, mentre invece Everdale è un gioco non cooperativo, dove ognuno gioca per sé, però alla fin fine, in questo reame fatato, in questo davanti a questo albero eterno, voi dovrete costruire la vostra città. Ed è un gioco unicamente a punteggi, dove non si può andare a minare il gioco di un altro giocatore, bisogna semplicemente giocare meglio e costruire una città migliore rispetto al proprio avversario. Quindi non c'è tanto l'azione di sabotaggio o cose del genere. Ed è molto bellino, caratteristico, perché è privo di violenze e cose del genere. Sì, c'è una modalità dungeon che potete andare a caccia di mostri, fra molte virgolette, però è un gioco di animaletti in questo Everdale, appunto, in questa ambientazione fantasy, poi alla fin fine aperta e disponibile per tutti, in cui lo scopo principale sarà quello di creare, di mettere 15 carte insieme e di creare una città o comunque un paesello che sia più rinomato e più famoso degli altri all'ombra di questo grande albero, che poi è un po' il fulcro secolare di questa ambientazione qui. Molto bello, fatto bene veramente, mi sta piacendo un casino. Unboxing. Questa è la scatola del gioco base, della versione Kickstarter, ripeto, non è la retail, questa è proprio la Collector Edition. E vedete, bellina divisa tutti quanti i quadrettini che poi la vera scatola è sotto. Comunque sono molto belli i disegni, i colori, ed è veramente, questo è il classico gioco, non si scappa, questo è il classico gioco per tutti. Cioè non è per un tipo di giocatori, come magari Massive Darkness, a chi piace il Dungeon Crawler e cose varie. Questo è un gioco veramente che puoi mettere in qualsiasi tavolo. E come vedete, dentro, confezione del gioco, vedete, questa è la vera e propria confezione, l'altra era soltanto una piccola scatoletta, un box in cui inserisci la che parte della Collector. E vedete il disegno, tra l'altro i colori, scatola bella grande e anche piena zeppa di roba infatti pesantella. Gli animaletti, scelti il bosco, i colori della natura e tutto quanto è veramente molto carina. Apriamola. All'interno il regolamento di gioco. Anche questo, pochissime pagine, anche perché le regole sono due. Molto colorato, pieno di esempi, quindi di facile lettura. E anche l'inglese è molto semplice, è inglese scolastico, quindi ok che sta per uscire da Asmodi, ma anche chiunque l'avesse preso dal Kickstarter in lingua originale non avrà nessun tipo di problemi. Librettino della Starling Games, con tutti quanti i loro giochi, quindi un piccolo catalogo che vi fa vedere i loro giochi in uscita, insomma, quelli più gettonati. Piccolo libretto della Collector, che ci fa vedere all'interno cosa c'è di particolare, tra l'altro carte e qualche regolina in più rispetto al gioco base. Guida, su come assemblare l'albero eterno, che questa è la parte più carina e di sfondo al tavolo da gioco. Tabellone di gioco, che ora poi a breve vi faccio vedere tutto quanto aperto. Albero da montare, più segnalini avventura ed evento, token vari e monetine e quant'altro. Dado da 8, che serve solo per la modalità in solo. Il gioco non ha nessun tipo di tiri di dado, questo è soltanto per dare un pochino più di casualità quando giocherete in solo, perché potete anche giocarlo in solo. Meeple, che come si è visto in router rappresentano un po' i vari clan. La versione Collector, io vi farei sentire quanto pesa sta bustina, ha delle vere e proprie monete in metallo. Quindi queste sono delle vere monetine rispetto alla versione Retail. Altre monetine, quello di prima era il taglio da 1, questo è il taglio da 3, che praticamente sono i punti che servono per vincere la partita. Sacchettini risorse, servono ovviamente per costruire, arruolare e quant'altro. Quindi queste sono le 4 risorse presenti nel gioco. Carte destinazione, carte critter, carte evento, insomma qua dentro c'è tutto quello che vi serve per giocare. E ora vi faccio vedere il tavolo e come funziona una partita. Allora, questo qua è il tabellone di gioco, vedete che comunque è abbastanza ridotto come dimensioni. Questo è l'arbero eterno, su cui ovviamente è più che altro figurativo questa struttura, ce l'hanno messa per figura per rendere più bellino il tavolo. Non c'era tanto bisogno di farla, però è bellino insomma evocativo e tutto quanto. E sull'arbero trovate i lavoratori. Io vi faccio vedere le regole di una partita a 4 giocatori, però come vedete ci sono soltanto due colori, due clan di creature del bosco qui davanti. Ce ne dovrebbero essere anche le altre che vedete che poi sono queste qui, quelle bianche e quelle nere. Però va bene, per non fare troppo casino e riservare un po' di spazio, metteteli sempre in gruppetti da 4. Anche perché ogni giocatore all'inizio parte, questi si chiamano critter, lavoratori, worker, parte con due lavoratori per ciascun personaggio. Più tutti gli altri che potete sbloccare col passaggio delle stagioni. Nell'albero successivamente al piano di sotto ci sono le carte evento speciali, che sono queste 4 carte evento che potranno essere fatte da tutti i giocatori e quando vedete un'iconcina gialla con un numero dentro sono i punti che prenderete a fine partita per poi scendere verso il basso. Il mazzo di carte generale ha le radici qui ai piedi dell'arbero da cui tutti andranno a pescare e poi qui sulla riva vedrete le 4 risorse, che sono bacche, roccia, resina e legname. Queste qui sono le 4 risorse, tra l'altro che nella versione Collector le bacche sono gommose, cioè veramente sembrano antistresse e viene voglia di mangiarle. Ora, dopo ci prova a mangiammene una, vediamo se è Mabelino con Everdale. E qui invece sotto l'albero vedete 1, 2, 3, che è questo qui e 4, che è quest'altro, che sono eventi speciali. Quindi nel setup iniziale dovete mettere 4 eventi speciali, l'albero, tutti quanti i lavoratori in cima all'albero, a parte i 2 che dovete togliere per ciascun giocatore e le carte evento speciale in cima. Poi le risorse, qua giù invece dovete mettere in questi segnalini qui con un buco, tipo una piccola radura nella foresta, dovete andare a mettere 4 carte foresta, che le vedete che hanno il dorso con lo stesso disegnino, insomma, del buco che c'è qui. Quindi ne prendete 4 casuali e le mettete 1, 2, 3, 4, in una partita a 4 giocatori. Questo qui è il Market, 8 carte che potranno essere acquistate da tutti i giocatori, quindi da tutte e quattro. È un po' una specie di partita a Texas Hold'em dove si gioca con le carte, sia quelle che abbiamo in mano che quelle scoperte. Queste potranno essere acquistate da qualunque giocatore. Ogni volta che ne acquisterete una, però ricordatevi di scartarla, cioè, no di scartarla, di darla in mano al giocatore che l'ha acquistata per il punteggio finale che potrebbe guadagnare e poi andate a pescarne una nuova dal mazzo generale alle radici, ai pendi dell'albero e andate a sostituire. Qui nel mezzo ci dovranno sempre essere 4 carte. Completano il tabellone delle azioni che si possono fare, ovviamente le varie azioni che sono sotto le risorse, che ora vi faccio vedere per andare a prendere le risorse, in più il travel, qua giù in fondo, che può essere fatto però soltanto durante l'autunno, quindi manderete uno dei vostri worker a fare un viaggetto, un'avventura, una quest, una cosa particolare, perché poi ovviamente è anche arricchito da leggende, questa ambientazione qui è molto carina, e potrete mandarci uno o più personaggi per prendere il punteggio, o se no questa qua giù in fondo, che è una zona comune, e sempre sul tabellone c'è scritto che cosa vi darà. Di solito pescare carte o risorse. Regola del gioco vuole che, questa buca qua giù in fondo al tabellone è per mettere le carte scartate, unica regola del gioco, veramente unica, poi ce ne sono altre, vedete ci sono dei cerchi, no? Di solito quando c'è il simbolo della zampina vuol dire che ci potete mettere un worker, quindi anche sulle carte città, sulle carte bosco, sulle carte vente e quant'altro. Quando vedete un cerchio completamente chiuso, vuol dire che ci potete mettere un solo worker. Quando vedete invece un cerchio aperto, quindi che non si conclude, ci potete mettere uno o più worker, quindi nel caso anche il vostro avversario potrebbe venire a mettere uno, o magari voi stessi potreste mettercene due per prendere due volte il punteggio. Quindi quando aperto ce ne potete mettere più di uno, quando è chiuso soltanto uno. All'inizio del proprio turno tutte escano tot carte dal mazzo generale, quello ai piedi dell'albero che vi ho detto, non le carte scoperte, quello ve lo dirò successivamente. Comunque, nel primo turno che iniziano sono quattro stagioni, questo gioco qui, quindi si va dall'inverno all'autunno, il primo giocatore, decidete voi ragazzi che è il primo giocatore, tanto non cambia nulla alla fin fine, il primo giocatore pesca cinque carte in una partita a quattro, il secondo giocatore ne pesca sei, il terzo giocatore ne pesca sette e il quarto giocatore ne pesca otto. Quindi facciamo conto che questa sia la mano del primo giocatore a cui gli affidiamo gli scoiattoli rossi come miniatura. Ricordatevi che di partenza dovrà pescare cinque carte, visto che è il primo giocatore, due worker, mentre tutti gli altri le andrà a sbloccare a fine turno, a fine stagione, sull'albero eterno, e queste carte qui se ne possono tenere massimo otto in mano, ok? Quindi, regola del gioco vuole che se voi avete otto carte in mano, non potete assolutamente scartarle per fare posta ad altre. Quindi le carte che avete in mano le dovete giocare, o al massimo, al massimo, se proprio vedete che a fine turno avete una mano di carte che non vi interessano e cose del genere, sì, in quel caso lì siete autorizzati a scartarle, però nella fase sempre internamente al vostro turno. Non potete aspettare la fase finale finito tutto quanto il ciclo delle stagioni, quindi che ne so, il passaggio dall'estate all'autunno, per farvi un esempio, per pescare tot carte scartandole. Le potete scartare unicamente dalla vostra mano nel vostro turno, e così fare posto per otto carte nuove. Il massimale delle carte che potete avere in mano è sempre otto, mai di più. Quindi il quarto giocatore che inizia con otto carte in mano ha già il massimale, e quando toccherà a lui, a meno che non ne scarti un paio, sempre nel suo turno non potrà pescare di nuove. Il tabellone di gioco, all'inizio avete queste carte centrali che le potete pescare, quindi questo è uno shop comune. Alla fin fine, quando è il vostro turno, il primo no perché pescherete direttamente la mano, ma dal secondo in poi, passando di stagione, voi potreste dire, ok, io ho quattro carte in mano, ne devo pescare altre quattro per arrivare a otto, magari ne prendo due casuali dal mazzo qui, e ne prendo due di queste. Ricordatevi sempre di sostituire il market, ce ne devono sempre essere otto. Magari di queste che vedete qui non ve ne interessa nessuna, quindi alla fin fine andate a pescare dal mazzo, ma potete anche fare un mescuglio. E poi dovete sempre, il turno di un giocatore finisce sempre quando ha posizionato i suoi lavoratori. Le azioni che può fare un giocatore sono tre. Posizionare un lavoratore, e ora vi faccio vedere come, giocare una carta, o passare la mano. Io posso anche dire passo al mio avversario in senso orario per vedere lui cosa fa, e mi muoverò di conseguenza. Ricordatevi sempre che il turno del giocatore finisce quando ha posizionato tutti i suoi lavoratori. Quindi io posso giocare quante carte voglio, anche alla fin fine, una io, una al mio avversario, e così via a girare. Fino a finire tutte le carte che ho in mano, se ovviamente le posso pagare, però fino a che non avrò messo tutti quanti i miei lavoratori nei vari punti che ho deciso per loro sulla mappa, il turno non sarà finito. Le azioni che si possono fare sono molteplici, ed è inutile che ve le vada a descrivere, tanto comunque si vedano bene sulla mappa. Io potrei dire, ok, il mio primo lavoratore lo metto qua giù, che vedete è un cerchio chiuso, quindi qui ce ne posso mettere soltanto uno, però nel caso ce ne posso mettere anche un altro, o nel caso il mio avversario, queste sono le tartarughe, potrebbe usare la stessa azione. Comunque in questo turno dico uno dei miei due, l'ho messo qua giù, vedete, ah, questo simbolino qui vuol dire per quanti giocatori è questa carta, quindi se è da meno, se siete in due giocatori, queste carte con simbolo di quattro toglietele. L'ho messo qui e vado a prendere tre risorse, quindi mi dice, ok, io andando qui ho collezionato tre bacche, ok, queste qui tonde, che io ho preso dal gruppo comune che c'è qua su in cima. Un'altra azione potrebbe, che ne so, essere andare qua giù, che vedete che soltanto uno ci può andare, quindi il primo che arriva perché un cerchio chiuso si prende la risorsa, vado qui e invece magari mi prenderò anche una roccia. Stessa cosa poi muovendosi per tutti gli altri, insomma potrei andare a prendere la resina, la legna, addirittura qua giù ci dà un'azione speciale, ci dice, non soltanto se io mettessi il mio mino qua giù, il mio lavoratore, e questo aperto eh, ci possono entrare tutti, non soltanto pescherò due di legna, e lo metto nella mia riserva, ma pesco anche una carta, ok? Come vedete posso pescare una carta, però pescando le carte, le dovete prendere dal mazzo, quello laggiù in fondo, posso dire ok, posso prendere una carta e quindi la vado a pescare, dal mazzo lì sotto l'albero, e queste sono tutte le azioni, poi, l'avete visto, queste sono le azioni bosco, foresta, che vi danno risorse, o ad esempio questo simbolo qui, vuol dire che posso prendere una risorsa qualunque, e anche qui nel caso mi fa pescare due carte, oppure posso mandare il mio worker a fare un viaggio, però vi ricordo soltanto in autunno, posso metterlo sul tracciato, dove mi pare a me, vedete, più lo sposto, più mi dà punti a fine avventura, con l'unica regola che devo pagare il punteggio che c'è scritto in carte, quindi nel primo travel devo spendere due carte, scartarle, nel terzo tre carte e così via, ovviamente più in basso lo mettete nel, a livello del punteggio, e più punti vi portate a fine partita, punti che poi sono queste qui, che vi faccio vedere, che sono quelli, questa ragazzi forse ve lo giuro è la figata più grossa che c'ha, la versione collector, ragazzi sono delle vere e proprie monete, cioè sono di ferro, è bellissimo, sono delle vere e proprie monete, queste qui sembrano per tenere conto dei punti, i punti ce li avete sempre scritti sulle carte, vedete non avete bisogno di metterci una moneta sopra, anche perché il punteggio c'è scritto, però in caso di azioni che vi danno un punteggio, come queste cose qua giù, o come gli eventi che vi faccio vedere ora, che ne so, questo evento qui mi ha dato tre punti, ci ho speso tre carte, quindi un gettone tre, lo metto dalla mia parte del tavolo, e quindi ho preso tre punti del viaggio, ci sono gli eventi comuni, che anche questi danno punteggio, e vedete questi qui hanno tutti quanti un cerchio chiuso, quindi il primo che ci va, se lo prende e si porta via a casa il punteggio di tre, riprendete un'altra monetina al solito, ci sono in taglio da tre e da uno, però per fare gli eventi dovete soddisfare i requisiti che ci sono scritti, quindi nel caso di questo evento qui dovrò avere tre strutture costruite, ok? Quindi nel mio mazzo, che vi faccio vedere nella mia città, dovrò avere almeno tre edifici costruiti, oppure nel caso di qua dovrò aver fatto tre viaggi, oppure in questo caso dovrò avere quattro carte produzione, quindi perché ci sono anche le carte campo che producono, e producono risorse nel tempo, e quindi per fare questo evento hanno dei prerequisiti, stessa cosa quelli sopra, che sono invece gli eventi speciali che vi danno un casino di punti, un casino di risorse, questi qui nel primo cerchio dell'albero, però sopra vi danno anche sempre due prerequisiti scritti qua su in cima, che vedete che di solito sono un critter, quindi un personaggio speciale che prendete sempre dalle carte, e una struttura, quindi se non avete questi due prerequisiti qua su in cima, struttura e critter, o comunque due strutture, non potete completare questo evento. Come vedete qua su in cima ci sono i vari turni, vi ricordo che il primo turno è quello dell'inverno, il bosco si risveglia, le creature iniziano a lavorare e tutto quanto, quando finirà il primo turno si passerà ovviamente nel turno della primavera, che è il primo qua giù, e come vedete nel turno della primavera c'è scritto che prenderete un nuovo critter, lo stesso nell'estate, mentre invece nell'autunno ne prenderete due, quindi quando tutti i giocatori hanno posizionato i propri walker, e walker e lavoratori si passa al turno successivo, che è quello della primavera, la primavera ci dice, vedete c'è il simbolo verde di una foglia, vuol dire che tutti i nostri campi che producono risorse, produrranno risorse, quindi le possiamo andare a prendere dalle carte che vi faccio vedere, e in più sblocco un nuovo critter, un nuovo lavoratore che me lo possa andare a mettere nella mano, quindi di partenza dal primo turno non avrò più due lavoratori, come vi ho fatto vedere in partenza, ma avendo sbloccato il terzo ne avrò tre, tutti gli altri giocatori uguali. Si passa poi invece all'estate al centro, che anche questa volta ne sblocco un altro, di quelli che sono sopra, quindi c'ho un altro lavoratore da utilizzare, però all'estate stagione calda non produce nulla, i campi, cioè le carte che avete, non producono risorse, però nel caso giocherete comunque una carta campo da mettere giù, quindi vi faccio un esempio, ve ne prendo una da qua giù, mettessi comunque una carta campo, questa, tutte le carte campo col simbolo verde, non producono risorse, però le carte campo subito appena calate, vi danno una risorsa, la risorsa la prendete uguale anche in estate, però sono semplicemente quelle che avete già giocato nella vostra città, che non producano, e anche qui vi prendete un nuovo worker. Arrivati poi infine all'autunno, che prendete gli ultimi due worker, e direttamente potete fare le avventure, solo in autunno come vi ho fatto vedere, tracciati nel bosco, e in più prenderete gli ultimi due, e c'è sempre il simbolino verde, che vuol dire che potete produrre, i vostri campi produrranno risorse. Le carte ragazzi, per farvi una descrizione, c'è sempre un nome della carta, che potrebbe essere un dungeon, potrebbe essere un campo che produce risorse, potrebbe essere una struttura, potrebbe essere anche un critter, che sono praticamente i personaggi speciali, che potete utilizzare, e le carte hanno sempre un costo, un simbolo, che vi dicano cosa sono, anche per raffigurarvi con i simboli, che avete visto in alto sugli eventi di base, quindi se un evento di base ti chiedeva tre pergamene, vuol dire che devi avere tre di queste carte qui, e questa nella fattispecie è un dungeon, come potete vedere, quello sotto invece è un palazzo. Comunque voi dovete sempre spendere le risorse che vi chiede, quindi che sono elencate qui, nel caso di questa, due legname, tre di resina, e tre di roccia. Spendo queste risorse, risorse che poi vanno scartate, arrivano nei mucchi, e la metto, la prendo, e la metto in campo. Vi ricordo, la potete giocare, sia dalla vostra mano, che comprarla qui dal negozio in comune. I punti, che vi dà a fine partita, i punti vittoria, in più una descrizione della carta, perché ogni carta ha un'azione che può fare, può produrre risorse, e cose del genere, e in fondo, vedete, in basso a destra, c'è il simbolino di un critter. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso, io avesse questo critter in mano, lo devo pagare, come una carta normale, anche critter chiedono risorse, per metterlo in gioco. Però, se io ho già in gioco il palazzo, mi darà questo critter gratis. Quindi, se io pago la spesa del palazzo, lo metto in gioco, e metti caso in mano, ho questo critter, o lo pesco successivamente, lo posso giocare gratis, perché ho messo la carta del palazzo, e ci metterete sopra un simbol, prenderete la carta, e ci metterete sopra un simbolino dell'usato, per starvi a ricordare, insomma, se no uno ha quel critter lì, magari lo andrebbe a pescare più volte, per quanto magari la maggior parte sono unici. Mentre invece, carte, con il simbolo del piede, ci potete mettere sopra un vostro personaggio, quindi un vostro worker, per fare un'azione, e prenderete l'azione che c'è scritta sotto, oppure anche un vostro avversario, perché comunque è parte di una città aperta per tutti, se voi non ci avete messo nulla, il vostro avversario ci potrebbe mettere un suo worker, usare l'azione in fondo della vostra carta, che tra l'altro ve la blocca, perché è un cerchio chiuso, quindi voi questa azione non la potete più fare, però paga dazio, paga pegno, e pagando pegno, ogni volta che un avversario, utilizza una vostra città, quindi utilizza la risorsa della vostra città, l'abilità speciale, voi guadagnerete una monetina, appunto, un punteggio, e questa la prendete e ve la mette da parte. Come dire, sì, ti ho rubato l'azione che te non puoi usare, te l'ho fregata, però comunque io un punto a fine vittoria te lo do, perché giustamente sei venuto nella mia città ad utilizzare le mie cose, e questo ragazzi è tutto un gioco che si basa sul punteggio, poi nella vostra parte di tavolo, vi serve un pochino di spazio, perché la mappa è ridotta, però vi serve un po' di spazio per costruire la vostra città, avete 15 slot per mettere giù le vostre carte, che ripeto, possono essere di tutti i tipi, dungeon, strutture, critter, leggete sempre sulla descrizione della carta che non sia unica, se è unica, ovviamente potete averne soltanto una, dovete fare tre file da cinque per avere quindici carte in tutto, quindi cinque, cinque sopra e cinque ancora sopra, le potete disporre come vi pare, basta ci stiamo sul tavolo, quella più comoda è fare tre file da cinque che vi daranno quindici carte, e quella sarà la vostra città, ricordatevi sempre che dovete fare il conto dei punti, che avete guadagnato costruendo quella struttura, ma soprattutto la cosa principale è che il giocatore vince quello che ha più punti, quindi tutta una cosa veloce, dovete muovere i vostri omini, prendere risorse e costruire, per guadagnare più punti possibile, perché a fine avventura anche un punto decreterà il vincitore dallo sconfitto, e poi la cosa principale sono i worker, che piano piano andando avanti con le stagioni, sbloccherete tutti, e il turno del giocatore passa quando ha posizionato tutti quanti i suoi worker, dopo le quattro stagioni che finiscono con l'autunno, la partita è finita, si va a fare il conteggio, conti, punti per le città, i punti per l'avventura, i punti monetine che avete fatto, e quant'altro, messi insieme fanno la zuppa finale del punteggio, e si guarda che è il giocatore che ha vinto, tutto qui. Ragazzi, questo è Everdale, è tutto qui, è un gioco veloce di punteggi, e anche questo un po' ha detto bene mia moglie, cioè mi ricorda un pochino sia Monopoly che Hotel, perché avete visto, se passo nella struttura di uno, la posso utilizzare, però devo pagare pegno, un po' come in Hotel, quando giustamente andavi lì a pagare il pernottamento. Il gioco è tutto qui, è molto semplice, mi piace veramente da morire, questo è un gioco per tutti, questo bordaci un'altra volta, è il classico gioco che lo può portare in tutte le case del mondo, e fai divertire sia bambini, per quanto il gioco è dato per un'età leggermente più adulta, perché forse ha un po' di carte, un po' di cose da legge, però è un gioco per tutti, e poi per il setting che hanno usato, è veramente bellino, ci può mettere anche un bambino, secondo me di 10-12 anni, ce lo può mettere tranquillamente. se gli devo dare un voto a un gioco del genere, gli do, occhio però, mi riservo un diritto finale, gli do 9 su 10, e gli voglio dare anche di più, però sento che ci manca qualcosina, cioè perché è un gioco bellino, è un gioco veloce, però non può essere soltanto a chi prima arriva meglio alloggia, capito, per prendersi il punteggio migliore, non può essere un gioco di matematica, dove unicamente le mosse sono dettate dallo spostamento sulla mappa, e da prendere punti, sento che qualcosina gli manca, ma qualcosina che io sono convinto da morire, troverò in Pearlbrook, che ve lo faccio rivedere, che è l'espansione, questa qui, e vi farò vedere in un prossimo video, secondo me, con quello che inserirà questa espansione, andrà a chiudere quel piccolo gap, che secondo me è quello che gli manca, ma ne sono convinto, perché anche da quello che vedo dietro, vedo che inserisce addirittura ponti, torri, e anche dungeon e cose del genere, quindi secondo me, il gioco perfetto, cioè la variante perfetta per giocare Everdell, è quello di prenderlo direttamente, con l'espansione, però comunque, tanto sono espansioni che usciranno, grazie a Asmod Italia, usciranno anche in Italia, quindi 9 su 10 come voto, gioco consigliatissimo a tutti, ringrazio ancora una volta la Starling Games, per averci un offerto, una copia per la recezione, gioco veramente bellino ragazzi, bellino da morire, e ci sta che quando farò il secondo video, sulla, sull'espansione su Pearlbrook, ci sta, ah che poi aspettate, quella è l'espansione che arriva col KickSight, tra la Collector, ma se non sbaglio, ho già visto altre due espansioni in uscita, cioè alla fin fine diventerà un gioco maestoso, e secondo me, ci butteranno veramente tanta di quella roba, e ci sarà da divertirsi, quindi valutazione, che potrebbe salire anche di un punto fino a 10, fatemi sapere, trovate il link in descrizione, per acquistarle tutto quanto, però ripeto, a fine mese, lascio anche il link di Asmod Italia, perché uscirà tradotto da loro, la retail, quindi, fatemi sapere cosa ne pensate, magari lasciate un commento in descrizione, dove acquistarle tutti quanti i link, dei nostri social e quant'altro, fatemi sapere, ciao ragazzi, alla prossima!